Prendono il via in Toscana le vaccinazioni contro il Covid delle persone estremamente vulnerabili e dei disabili gravi. La procedura di prenotazione è stata differenziata e personalizzata. Gli oltre 20.000 pazienti che soffrono di particolari patologie indicate dal Ministero hanno ricevuto o riceveranno direttamente sul proprio telefono cellulare un codice di prenotazione composto da otto cifre che dà loro la possibilità di prenotarsi sul portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it I pazienti che soffrono di patologie oncologiche, malattie autoimmuni, immunodeficienze primitive, malattie neurologiche, diabete, endocrinopatie severe oppure hanno subito un trapianto di organo o di cellule staminali emopoietiche vengono invece presi in carico direttamente dalle ASL, dalle aziende ospedaliere universitarie o dai centri sanitari che già li hanno in cura e saranno contattati telefonicamente entro 15 giorni per prenotare la data della vaccinazione. Si tratta di più di 36.000 cittadini toscani che non dovranno quindi prenotarsi sul portale. Le somministrazioni saranno effettuate dal 9 all'11 aprile e dal 23 aprile al 9 maggio. Grazie a tutti.